Due feriti in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Trento all'incrocio con via Mometto nella frazione di Arsego nel comune di San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova per lo scontro tra due automobili. Un incidente violento. I pompieri arrivati da Cittadella hanno messo in sicurezza una Fiat Panda e una Seat Arona rovesciate collaborando con il personale del SUEM nell'assistenza ai feriti. Il conducente, 63enne dell'auto capovolta, è stato stabilizzato e delitrasportato all'ospedale di Padova. Trasferito in ambulanza all'ospedale di Campo San Piero, l'altro conducente, un uomo di 80 anni che si trovava al volante della Panda. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.